Le tre formazioni molisane si preparano verso la ventunesima giornata nel giro F di Serie D e lo fanno con grande determinazione. La capolista Campobasso può continuare il suo percorso di vertice, anche se l'avvicinamento al match in casa del Montegiorgio ha portato con sé più di qualche preoccupazione. Nello specifico il portiere Pica ha un problema al ginocchio, mentre il centrocampista Brin ci lamenta un acciacco alla schiena. Dopo il riposo forzato, legato al rinvio del match interno con il Pineto, il Vasso Girardi ha atteso dalla trasferta dei rieti con la volontà di mantenersi pienamente in zona playoff. Infine l'Olimpia agnonese, che dopo il K.A. con il Giovanova deve assolutamente provare a realizzarsi. Il Castelnuovo al Civitella non è antagonista semplice, tra l'altro sarà occasione per preparare al meglio il recupero di mercoledì in casa dell'altro fanarino di coda, Atletico Porto Sant'Elpidio.